La seconda inaugurazione di una palestra all'aperto ancora più funzionale in un momento di emergenza da Covid. Dopo il successo delle macchine fitness installate sul lungomare di Chiavari, abbiamo deciso insieme al consigliere Davide Cesaretti di installare un palco anche qui a Caperana. Infatti siamo qui a fianco al campo sportivo Daneri ed abbiamo cinque macchine per un'area fitness. In un periodo di Covid è molto importante fare sport all'aperto, questi attrezzi verranno igienizzati periodicamente dai dipendenti del comune di Chiavari ed è molto importante, possiamo abbinare questa attività all'aperto anche alla piscina che abbiamo inaugurato sabato scorso a Chiavari con un grande successo, ma anche a tutta la sentieristica della nostra città che abbiamo pulito e che è molto frequentata adesso grazie anche alla pubblicità e alla conoscenza che abbiamo fatto. Ma in questo quartiere di Caperana non è l'ultimo intervento che facciamo, ho visto che il parco giochi effettivamente un po' per i bambini ha bisogno di una rivisitazione, ma abbiamo anche stanziato 50.000 euro, nella variazione che mi appronterò ad approvare entro fine novembre, per realizzare dietro via Parma, di fronte al campo sportivo, un campo multifunzione per permettere a tutti gli adolescenti di fare sport all'aperto e gratuitamente, quindi un impegno per lo sport in periodo di emergenza Covid da svolgere all'aperto. Inoltre possiamo dire che è in corso una sorta di valorizzazione dei quartieri, partiamo da Sant'Andrea a San Pier di Canna e in questo caso Caperana, quindi facciamo un attimo il punto sugli interventi che la sua amministrazione ha messo in campo, proprio in questo quartiere che è molto popolato e sicuramente rappresenta uno degli asset principali del comune. Sì, qui a Caperana abbiamo già stanziato tutto il percorso naturalistico lungo l'Entella, infatti ci sarà tutta una manutenzione straordinaria per permettere a tutti di andare sia in bicicletta e raggiungere anche questa nuova area fitness che abbiamo realizzato in bicicletta lungo l'Entella. I lavori dovranno partire da ottobre a marzo per via delle varie nidificazioni degli animali, conto che partano a breve, sono già stati appaltati, deve essere solo firmato il lavoro, c'è già stato un contatto con un'area di cantiere per posizionare tutti i mezzi. In quest'area però abbiamo già realizzato anche tutti i marciapiedi e nell'area, oltre a tutte le luci a LED che sono state messe per l'efficientamento energetico e una migliore visibilità. Non solo, ma è scaduta il 12 di novembre la gara per l'assegnazione dei lavori in Caperana a case sparse, 800 metri di questa strada, è stata acquisita al demagno comunale e ora con un investimento di circa 370 mila euro verrà messa in piena sicurezza per la sicurezza di tutti. Davide Cesaretti, consigliere delegato allo sport del Comune di Chiavari. Quanto è importante per il Comune rendere gratuita l'attività sportiva all'aperto e fruibile da tutti? È importantissimo, soprattutto in un momento come questo, dove i palazzetti, le strutture sono per lo più chiuse per l'emergenza Covid e quindi noi come amministrazione continuiamo con questo processo di apertura di zone open dove si possa far sport in sicurezza. Abbiamo un po' seguito in questo caso quello che abbiamo fatto in passeggiata mare con delle attrezzature che hanno avuto un grande successo peraltro, fruite da tutti, alla portata di tutti, quindi sono molto semplici anche queste da utilizzare, ma abbiamo tenuto conto del distanziamento fra l'uno e l'altro, di tutte le norme anti-Covid, però insomma siamo contenti del fatto che l'amministrazione sta continuando a investire sullo sport che in questo momento ha un aspetto sociale di primaria importanza. Quindi siamo contenti, speriamo di andare avanti così, ne faremo delle altre sicuramente, speriamo che venga tanta gente qua di Caperana a divertirsi facendo questa attività all'aperto, ringrazio il sindaco e l'assessore Ratto perché sono sempre molto sensibili a tutto quello che riguarda lo sport. Rassicuriamo anche i cittadini sulle condizioni di sicurezza anche legate all'emergenza Covid, quindi le sanificazioni, il distanziamento e tutto quanto concerne questa epidemia. Sì, questo è un aspetto importante che hai fatto bene ad evidenziare. Noi abbiamo già fatto una sanificazione anche di queste attrezzature questa mattina. Sarà calendarizzata una volta al giorno, tutti i giorni, la mattina verranno gli operai del Comune a igienizzare e sanificare tutte le attrezzature in modo tale che si possa operare anche nella massima sicurezza. Questo per noi è fondamentale, come è fondamentale portare avanti tutto quanto il resto, anzi forse questo aspetto della sicurezza riveste ancora qualcosa di primaria importanza. Dato la sua attività di esperto nel mondo dello sport, andiamo un attimo più nello specifico. Che tipo di attrezzature sono? Abbiamo detto che sono cinque e per quali esercizio, per quali attività di tonificazione sono tendenzialmente indicate? Ma sì, molto semplicemente. Sono cinque attrezzature molto semplici, innanzitutto fruibili da tutte, che vanno a contrappesare con il peso corporeo, quindi chiunque può farle senza nessun problema, e vanno a tonificare un po' tutte le varie parti delle muscolature, dalle gambe al bacino, agli addominali, spalle e pettorali. Si possono utilizzare in diversi modi, quindi tutte quante le parti del nostro corpo vengono tonificate grazie a queste attrezzature. Per quali target è indicato questo percorso fitness in quest'area pubblica? Io direi che più o meno abbraccia un target molto ampio. Si può andare dai ragazzini fino anche agli adulti e anche a degli atleti un pochino più avanzati, visto che si possono adattare gli esercizi in base alle qualità fisiche. Su ogni macchina è inserita un elenco delle attività che si possono fare con la stessa macchina, ma allo stesso tempo anche un QR code da scannerizzare col cellulare per poi avere in maniera digitale le informazioni funzionali all'allenamento. Che tipo di circuiti si possono fare? Quali sono anche le attività parallele da poter sviluppare in quest'area? Allora, visto che abbiamo un percorso anche lungo in tella, possono essere abbinate sia corsa, jogging, possono essere usate anche le panchine stesse per poter sfruttare il proprio corpo e quindi fare degli esercizi sulle panchine, quindi creare anche un percorso un pochino più aerobico e nel mentre inserire tutti i vari esercizi di tonificazione con le macchine che sono a disposizione nel parchetto.